Tra i molti interventi dei Vigili del Fuoco, quello lungo la strada regionale 11, che collega Ponte di Brenta a Padova con la riviera del Brenta, che è rimasta chiusa dalle 13 alle 16 per permettere la rimozione di un albero secolare dal naviglio del Brenta, che cadendo aveva invaso anche la strada. Per spostare e rimuovere il grosso tronco ancora nel naviglio è stata impiegata l'autogru e coinvolta anche la squadra dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco per imbragare in acqua la pianta la cui età è stata stimata in 200 anni. Per questo intervento è stata chiesta la collaborazione di Veneto Strade e della Polizia Locale.